ma la chat va sempre per i cazzi suoi? si si la chat anche se io non sono in diretta quella vive di vita propria ci sono sempre 50-100 persone che chatano per i fatti loro poi quando andiamo in diretta dicono oh ecco diretta e allora magari provano a parlare anche dell'argomento della diretta altrimenti parlano per i fatti loro, è una comunità ora sei in diretta? ora siamo in diretta, si ora aspettiamo che se ne accorgano vediamo, ancora stanno parlando degli affaracci loro ora fra 10 secondi, 20 dicono eccolo, in diretta ecco, tornato on complimenti a Gianluca Puglielli è stato il primo a fare un commento live buonasera a tutti carissime amiche, carissimi amici benvenuti, wei salvo ragazzi ciao a tutti ecco salvo allora carissime amiche, carissimi amici siamo sempre qui nella macchina siamo sempre noi quattro e voi 65 caspita eravamo 200 adesso 65 e mezzanotte e un quarto c'è anche zello con le gala però momento, adesso sono già 70 quindi Fulvio Digue accorto è al massimo Silvia Costu, eccoci è Silvia che dobbiamo dare la risposta ci vediamo a Bologna siamo arrivati, siamo arrivati siamo a Modena Salvo, sei anche su Zello sono anche su Zello benissimo allora sì, siamo in diretta sia su Zello che su Ustream ci saluta Dume Suisse dalla Corsica siamo a 12 chilometri dal grande Federico chi è Federico? Salvo ah, Parma? siamo vicino a Parma ragazzi allora, Fede Pizza, ti salutiamo carissimo va bene, lui starà dormendo sogni beati starà studiando bene, Luigi Conti scrive salvo, sono contento linea stasera bene sembra un messaggio così in codice ma vuol dire che ha la linea internet perché ha avuto qualche problema in questi giorni ragazzi, ci vedete un po' d'acqua? io ho finito io anche l'ho finita la mia avete un po' d'acqua da prestarci voi in chat per favore, che c'è Dennis Cassette ecco, ho trovato, ho trovato un po' d'acqua bene ragazzi, allora niente che cosa? avevano detto, ci vediamo a Bologna ma mi sa che tu c'è un retrato di messaggi vincente ecco, c'è questo messaggio che dice avevano detto, ci vediamo a Bologna infatti abbiamo superato Bologna siamo già a Parma come sta andando il viaggio? ci chiede Cat85 bene, il viaggio sta andando abbastanza bene non abbiamo avuto nessun problema abbiamo fatto un paio di pieni ce l'abbiamo il carburante adesso, vero? fino a casa? perfetto 470 km riservato, dove porto? a voglia, possiamo andare pure a Lugano e ritorno andiamo a Svizzera esatto, andiamo in Svizzera, dai ciao Salvo and Company vi ho seguito in streaming l'intera giornata Isabella Di Berardino scrive ciò ciao Isabella ti salutiamo anche noi e poi Davide Serra dice a Litri Salvo quindi forse si riferisce all'acqua salvo serì salvo serì ho fatto un mix Salvo, era un messaggio un mix? mia mamma tua mamma la mandiamo in diretta? dai mandiamo in diretta la mamma mamma sei in diretta con Salvo ciao a tutti volevo solo sapere a che punto eravate l'abbiamo seguito fino a poco fa poi non si vedeva più so che vi siete fermati a Bologna ora trovo ci Salvo Salvo dove siamo? mi ricordi il nome di tua mamma? Francesca ciao Francesca o buonasera Francesca siamo siamo in viaggio siamo a Parma non sembrate neanche tanto stanche avete parlato per tutto il tempo esatto infatti stavamo meditando visto che abbiamo carburanti a sufficienza di andare a Lugano prima di andare a casa no comunque siamo siamo all'altezza di Parma quindi ma il tempo com'è? buono? il tempo è ottimo sì 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 è buio ma sai che oggi qui c'è stata anche la grandine Vincenzo? ma qui dove? poi da dove è che chiamato mamma? Toscana ah dalla Toscana? perché? eh perché vi ho mandato i messaggi in diretta ma non li leggete vi ho offerto anche un piatto di pasta con il piatto di toriccio arriviamo signor ma non l'avete sentito non l'avete letto metti l'acqua che torniamo Francesca l'acqua della pasta che stiamo attorno dai fai un'inversione a Ugo ok? magari magari vi portiamo Vincenzino vi portiamo Vincenzino vi lo portiamo Vincenzino ma magari Vincenzo sarei anche Vincenzo anche Vincenzo va bene anche Vincenzo mamma d'otta un pochettino io e suo figlio siamo diventati quasi fratelli eh quasi quasi me l'avete rubato sto figlio me l'avete rubato amore buonanotte a tutti buonanotte 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 fate piano buonanotte Isabella di Berardino bellissimo eravamo tutti in silenzio per un po' nero schiacciare la minchia oddio questa 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 oh sì questa mi mancava meraviglioso oddio allora questa è Silvia fallico di zello bellissimo allora qua ci vanno delle domande quindi Isabella di Berardino ci dice dove andate Salvo allora veniamo da Roma e andiamo a Milano in varie zone di Milano io nel mio caso ad Abbiategrasso non piazza Abbiategrasso dove c'è la metropolitana proprio la città di Abbiategrasso sai quante volte amici miei che vengono da fuori dicono Salvo veniamo a Casato ma vengo con la metropolitana ho detto ma come con la metropolitana e sì tu abiti a Abbiategrasso c'è la metro ho detto no caro quella è piazza Abbiategrasso di Milano noi invece siamo proprio da Abbiategrasso la città provincia di Milano quindi abbiamo risposto a Isabella e quindi io vado da Abbiategrasso mentre Claudio Denis e Vincenzo vanno a Milano ah no a Rozzano chi va a Rozzano a Paderno Dugnano l'unico che va a Milano ah quindi Denis va a Paderno Dugnano che scusa è la patria di Silvana Carcano è la patria io sto a un chilometro da Silvana Carcano caspita sei proprio vicino alla Presidente poi Movimento 5 Stelle GPP dice con chi sei salvo sono con ciao G ciao sono con Denis Ferro grande attore eh con grande attore sagomista lo chiamerei si piace? sagomista eh? sagomista è bello attore sagomista poi sono con Vincenzo 4G eh ah io no dai inquadrami qua e mi presenta a te ma tu dove ti vedi? no è che sei al buio aspetta comunque fidati è Vincenzo 4G che ha anche un cognome che io non riesco mai a memorizzare Guli Sano ah 4G come Guli Sano ok e poi c'è Claudio Morginio eccolo qua siamo noi quattro siamo noi quattro è timido lui è timido parla poco ma scorreggia tanto però eh ecco poi qualcuno dice ma sono in diretta o no e quindi risponde Sky Blue dice se vedi un guadratino rosso in basso con la scritta live allora è live esattamente così comunque siamo live guarda ti dico l'orario sono le 24 e 24 minuti e 10 secondi però quando tu sentirai quello che sto dicendo sarò indietro di circa 10 secondi quindi 24 24 esatto 23 33 e 33 esattamente salvo non funziona com'è che non funziona semi live ma se blocca solo a me Nando aggiunga la pagina perché dovremmo avere una buona connessione in questo momento ah Zello si è incastrato e allora mi sa che c'ha ragione Nando vediamo se la chat va scrivete qualcosa in chat please can you see us cos'è ci siamo incastrati tutti vediamo vediamo il routerino che dice no il routerino c'ha a fondo scala ciao salvo mi scrive Meschis dovremmo essere in diretta anche con una buona qualità perché c'è solo prego almeno finché non vi fasse ridere ok grazie ma che è sta ridendo o sta piangendo che succede Silvia raccontaci che siamo stati assenti da Zello ma ridi o piangi Silvia Nero dagli il viagra al tasto bellissima no salvo c'è Nero che non riusciva ad entrare no? e se tu ti riascolti ti riascolti ma io sto piangendo dai ridere se tu riascolti la cronologia di Nero Black il primo intervento che ho fatto e senti come è entrato guarda cerchiamo Nero Black dai cerca l'ultimo di Nero Black e fallo ascoltare dai che ci divertiamo non so chi parere voi abbiate per la persona che difendono i difendibili permesso solo mettere grandissime teste di cazzo poi io non so se voi abbiate qualche pensiero buono nei loro confronti ma chi difende indifendibile è semplicemente una testa di cazzo ma guarda io non so chi parere voi abbiate per la persona che difendono i difendibili permesso solo mettere grandissime teste l'abbiamo già sentito poi io non so se voi abbiate qualche Agostino Sperdico ciao salvo saluti da Palermo poi Isabella di Berardino viva le mamme credo che si riferisca alla chiamata di prima di Francesca grazie ha ragione Isabella ha ragione Isabella tu ci hai chiesto dove stiamo andando ma ti posso chiedere dove ti trovi tu sei in viaggio sei ferma e se sei ferma dove sei ferma e poi vediamo qualcuno dice bloccato però qua continuate ad aumentare siete 101 la carica dei 101 102 ecco qua 103 cazzo qua continuano ad aumentare ragazzi facciamo audience facciamo trend siamo trendy siamo trendy 30 40 allora vediamo se la chat funziona se risponde Bontemponi Bontemponi cos'è una località? no Bontemponi ci sta dicendo che siamo Bontemponi ah ok perché entra con quella maniera Silvia sei caduto nuovo metti troppa crema nelle nelle mani no forse perché rido mi traballa anche il telefono mi ho fatto fisciata e ridere nero guarda meraviglioso hai fatto un'uscita ora me la vado a riascoltare in cronologia sto piangendo ve lo giuro ragazzi ho le lacrime agli occhi dalle risate ma si sente Silvia si sente che stai non riesce ad articolare due o tre parole di seguito ragazzi ragazzi allora qui Isabella mi scrive che ogni tanto si blocca purtroppo capita infatti vedo che anche la chat è lenta arrivano pochi messaggi in chat di sotto oh Sonia ciao Sonia come stai ciao Salvo notte a tutti ma mi dite se si vede si sente perché qualcuno dice che non si vede bene che si blocca mentre qua sembra tutto a posto ecco modelli di pensieri mazza che Nick questo si chiama modelli di pensieri individuale e la mamma è sempre la mamma movimento 5 stelle GPP ciao Andrea eccetera vabbè Silvia insiste sul fatto che sta piangendo l'abbiamo capito il concetto è chiaro è vero è chiaro è chiaro Silvia non ho capito che c'hai Silvia stai a rite stai a piani che è successo comunque ma era Silvia che ci aveva chiesto si cos'è che ci aveva chiesto le impressioni del viaggio ah le impressioni del viaggio allora prima cosa prima cosa strana con con Vincenzo e Claudio all'andata ci fermiamo all'autogrill di Bologna per mangiare parcheggiamo accanto alla macchina di attivisti che erano di Treviso o di di Treviso regà eh di Treviso attivisti di Treviso che stavano venendo giù perché Beppe l'avrà chiamati viaggio di ritorno con salvo ci fermiamo a mangiare in autogrill subito fuori Roma chi ti ribecchiamo gli attivisti di Treviso quindi quando Beppe dice che siamo una comunità o c'è un bucio di culo da madonna noi che abbiamo presi tutti o se no è proprio così insomma bene qua ci dice Prosperi Andrea solo audio video bloccato salvo è totalmente bloccato va bene allora facciamo una bella cosa noi adesso chiudiamo e ritorniamo ok quindi abbiate pazienza torniamo subito ciao 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 ciao